A volte ci siamo sentiti dire ma perché vi ostinate a proporre un tema come quello dei voucher che riguarda lo zero virgola del mercato del lavoro? Vogliamo ribadirlo perché per noi quando c'è una discriminazione c'è un'ingiustizia e il problema non è se riguarda tanti o pochi, il problema è che se c'è un'ingiustizia bisogna risolverla. Vogliamo continuare a dire che per noi il tema fondamentale è l'abrogazione delle forme di precarietà, non temiamo l'arroganza perché sappiamo che è innanzitutto figlia della povertà di proposte e come abbiamo visto della paura del confronto e per questo diciamo da questa piazza che ripartiamo ancora una volta da noi, dal lavoro, dalla lotta. Viva la CGL, viva il lavoro! Viva la CGL, viva la CGL, viva la CGL. Viva la CGL, 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 viva la CGL E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E le genti che passeranno, che mi diranno che bel fiore, che questo è il fiore del partisano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo è il fiore del partisano, è morto per la libertà E questo è il fiore del partisano